Intelligente e rispettoso del prossimo, mai hai utilizzato la tua posizione, il tuo nome per farti grande, e grande sei sempre stato. Nei tanti anni di conoscenza, lavoro condiviso in Rai, a porta a porta, e ovunque, vederti mi confortava e la tua presenza mi ha sempre regalato la gradevolezza dell'accoglienza e del sorriso, anche nei momenti più complessi, e ha concluso, pensare di non vederti più, piemontese nell'animo riservato e discreto, gentil'uomo d'altri tempi, con la battuta pronta, e un dolore che porterò, ogni volta che arriverò al terzo piano. Mi unisco al cordoglio della tua famiglia, e di tutta la redazione di E3 porta a porta, E3 un ufficial a Bruno Vespa, e a tutti quelli che hanno avuto il privilegio di conoscerti e di rapportarsi con te. Fai buon viaggio Claudio. Grazie.